Riccardo, dalla panchina al gol scacciate un po' tutte le polemiche, tutti i problemi che ti sei portato dietro in questo inizio di stagione. Sì, sicuramente è stato un inizio di stagione felicissimo per me, ho avuto critiche giuste perché comunque non ho reso il massimo, anche perché sono arrivato tardi in ritiro, quindi la condizione non era delle migliori. Ora sto trovando la condizione giusta e spero fra qualche settimana di arrivare al top della condizione e stare bene psicofisicamente. Ti fa parecchio onore questa ammissione di responsabilità, detto questo adesso stai bene? Sì, sì, sto bene, ancora non sono al 100% perché comunque mi manca il ritmo partita e da tanto che non gioco una partita titolare e spero di trovare più spazio e di dare il mio contributo al Pescara. Dimmi se mi sbaglio, le critiche sono arrivate un po' dall'esterno, però Di Francesco ti ha sempre difeso, ha sempre avuto grossa considerazione in te. Adesso? Sì, devo ripagare le migliori di modo la considerazione che ha avuto a Misa Di Francesco con me, soprattutto per i miei compagni che anche loro hanno avuto sempre fiducia in me e adesso devo ripagare le migliori di modo.